Start, 2, 1, Mystery Mission and Liftoff! Quindi non siamo nel Medioevo in questo caso ma siamo nel post-apocalittico dove il mondo è andato a rotoli. Ora riprendiamo un pochino la partita perché adesso vi faccio vedere che la nuova partita è divisa tra campagna e sandbox. La campagna ci permette di scegliere selezionando una standard timeline, quindi di iniziare dal primo ciclo e giocare sandbox. Mentre il develop timeline è praticamente scritta dagli sviluppatori con una sorta di storia e così via. Praticamente la campagna è quella che ho fatto io. Non badate tanto le recensioni su Steam perché il gioco attualmente è in perlopiù positiva ma c'era un problema che ha coinvolto anche me che impediva al caricamento di gioco di superare il 90%. Quindi io per tutto il periodo, un mesetto circa, di pre-lancio del Early Access il gioco non caricava più del 90%. Quindi la partita rimaneva lì, non partiva e non sono riuscito a giocare se non dopo l'uscita in Early Access. Early Access che durerà dai 12 ai 24 mesi, ma se andate a vedere sulla pagina Steam c'è già una mappa dello sviluppo. Quindi hanno già pianificato quello che sarà lo sviluppo nei prossimi mesi con aggiunte molto interessanti. Quindi il gioco subirà delle modifiche, non ha la lingua italiana per quanto sia comprensibilissimo per la maggior parte dei contenuti. Adesso andremo a vedere, ma bene o male, quello che si può fare. Insomma, lo si capisce soprattutto se si è già masticato giochi del tipo Far Test Frontier o simili. Far Test Frontier mi è piaciuto molto, ma qui siamo totalmente su un altro tipo di ambientazione più che altro e soprattutto di Far Test Frontier, che non ho tanto ritrovato qui ma sono ancora all'inizio, c'era un notevole cambio di ambientazione in base a come noi lo industriale, mi sfugge il termine, lo rendevamo più industriale, più produttivo. Allora, in pratica che cosa succede qua? Qua abbiamo le nostre risorse, qua in alto, dal legno, la pietra, l'iron ore, i funghi, la carne, l'acqua, i pasti semplici, il lumber e così via. Noi dobbiamo iniziare con questo, che è la Main Hall. Praticamente vedete che siamo al ciclo 1, che sono le Foundation, quindi abbiamo delle risorse base. Per poi passare al Cycle 2 Iron Age, l'età del ferro, dove praticamente avremo la possibilità di andare a ricercare e ottenere altre risorse e altri edifici. Così poi per passare al 3, che è Roots and Branches, quindi praticamente saremo focalizzati anche su vari tipi di minerali, su vari tipi di, appunto, miniere, forni, vegetali, insomma. Qua vediamo la popolazione, qua vediamo il morale, la vita e quanto il nostro villaggio attrae gli altri. Adesso io posso rallentare oppure no. Allora, praticamente dovremmo anche andare a produrre energie andando avanti. Vi faccio vedere, con Resident abbiamo Shack, quindi abbiamo, vedete che ci consuma anche dell'elettricità quando attiva, e questa tecnicamente dovrebbe produrne un pochino con questa pala eolica qui. Per le risorse abbiamo il Field Camp, che praticamente ci permette, piazzandola, di raccogliere, in questo caso l'ho fatta qui, ci permette di raccogliere il legname presente nella zona così come la pietra e possiamo andare a decidere quante persone mettere per uno o per l'altro. E andando avanti e sviluppando la nostra città, migliorando le tecnologie, potremmo anche andare ad aggiungere dei minatori di ferro e dei Field Worker, che credo siano lavoratori della terra, credo. Comunque, altra cosa, si mettono i pali della luce, molto rudimentali, perché ovviamente quando siamo nel Medioevo l'elettricità si sa che cos'era, ma ovviamente è successo qualcosa nel mondo e quindi c'è stato un gran problema. Qua ci sono delle persone, un gruppo di persone che stanno arrivando. Qua abbiamo il pozzo, il pozzo ci permette di attingere delle risorse che abbiamo sulla mappa, vedete che va a produrre, non è connesso a una Roadwork, quindi la andremo a costruire. Nella produzione abbiamo la Lumber Mill, che è qua, e ci produce, selezionando qua in alto che cosa fare, le assi, usando il legname. Abbiamo persone da assegnare. Tra l'altro, è un po' una meccanica già vista in anno, ci sono diversi tipi di classi sociali, c'è quello base, ci sono gli ingegneri, e così a salire, i craftsmen e gli specialisti in pratica. Worker, quelli normali, craftsmen, lavoratori specializzati, e gli specialisti che sono quelli un pochino più, penso, più intellettuali. Abbiamo raggiunto l'Iron Age, quindi praticamente ora abbiamo la taverna, la forgia, il fabbro e la windmill. La windmill sarà molto importante, per quanto il gioco non ha un tutorial che, insomma, secondo me bisogna lavorarci un pochino ancora. Overview in report ci riporta tutte le statistiche a livello di vita, persone, le strutture, persone tra l'altro ci dice cosa stanno facendo, il loro livello di alimentazione, di sete, quello che stanno facendo, i servizi a cui hanno accesso, le strutture, i materiali che possediamo, molto chiaro, molto più chiaro di un sacco di altri giochi, e le regioni, quindi ci sono altre regioni da esplorare. È un gioco che, è un video questo, che vuol farvi vedere quelle che sono le basi di questo titolo, giusto per farvi capire se potrà o meno interessarvi. Le utility, vedete, abbiamo le windmill, la taverna e tutti gli altri. Allora, abbiamo il development tree. Mamma mia, non riesco a pronunciare oggi le parole. Development tree. Ok. Ne accumuliamo un tot alla volta e abbiamo la possibilità di andare a espandere. Al momento arriva solo fin qui. Quindi possiamo andare a ricercare, vedete qua sono tutte ricercate, qua 30 ore e ricercheremo questa. Quindi start research. Ci costa 22 assi di legno. Ne abbiamo 140, quindi direi che intanto la gente sta lavorando, sta portando roba in giro. Ci diceva che questo non è connesso alla rete, quindi tecnicamente prendiamo una strada e la colleghiamo qua. Vedete che il collegamento poi porta anche queste linee elettriche che sono l'illuminazione. Un gruppo di viaggiatori. Abbiamo anche queste scelte da fare. Un gruppo di richiedenti, insomma, asilo, chiedono per... Va bene, più 9 lavoratori. Perfetto, abbiamo aggiunto altri lavoratori. Qui abbiamo anche la soap kitchen. Me l'ha fatta costruire il tutorial che poi mi ha mollato a un certo punto. Mi ha detto, ok, adesso sai più o meno le basi, vai avanti tu. Quindi sto cercando di capirci qualcosa. Qua usano i funghi e l'acqua, quindi usano 6 funghi e 2 d'acqua, funghi che vengono poi raccolti in giro per la mappa. Intanto, andando a vedere le persone, abbiamo 26 lavoratori su 46 totali disponibili. E possiamo andare addirittura a scegliere come distribuire, questo ricorda anche un po' Frostpunk, come distribuire il cibo, quindi medio, basso, regolare, extra o doppio, così come la distribuzione dell'acqua. Quindi possiamo risparmiare o meno, però, al prezzo della felicità delle persone. Vabbè, qua, water layer, devo ancora capire come funziona. Wind layer, vedete che c'è il vento che passa da qui. Mining layer, non abbiamo ancora miniere. Fertility layer, drilling layer. Vabbè, torniamo sul normale. Gathering camp, l'abbiamo già fatto. Well, l'abbiamo fatto. Fill camp, ok. Il gathering camp l'abbiamo fatto, perché, sì, è qui. E qua vedete che stanno raccogliendo funghi. Funghi tutti qua in zona. Che stanno, tra l'altro, anche finendo. Quindi, quando li avevamo finiti, saremo un po' nella murder. Qua abbiamo poi la possibilità di espanderli a pescatori, cacciatori e raccoglitori più generici di altre cose. Per la produzione abbiamo la forgia, che non abbiamo ricercato, e lo smith, che avevamo visto prima. Lo stockpile, invece, ci consente di accumulare risorse. Possiamo costruirlo. Lo possiamo mettere qua nell'angolino. E vedete che, qua, meno bello, secondo me, di Farters Frontier come costruzione, però, la gente c'è. La gente si mette all'opera, trasporta la roba. Rispetto a Farters Frontier, diciamo che è un po' più comodo la gestione dell'inventario. Però, la gente che va, c'è comunque anche qui. Infatti, vedete che stanno trasportando. Forse, tra l'altro, in maniera più realistica rispetto a Farters. Però, intanto, abbiamo fatto la nostra ricerca. Abbiamo ricercato lo shack, normale. Tecnicamente, siamo già nell'Iron Age, quindi possiamo ricercare qualcosa. Questa cosa che cerca? La taverna. E la Power Grid, invece, questa. Ma io farei... Ma, in realtà, io ricercherei la Power Grid per potenziare un pochino il... Aspettate un po', mi chiede... Quaranta e sei di metallo, che non abbiamo ancora. Quindi direi di no. E cerchiamo la taverna, allora. Eh, no. Non l'ho già speso per quello. Perché non ho i lingotti. Quindi, è un po' un cane che si muove dalla corda in questo caso, perché non possiamo fare i lingotti per... Ricercarla, ma non posso più cambiarla, credo. Ma a quel punto io avrei scelto qualcosa di più... Metalwork Technique. Questo. Ok. Ricerchiamo questo, che è un po' meglio. Ehm, allora. Tanto vedete che stanno costruendo. Vedete che pian piano viene su. Non è male neanche qua, eh, dico la verità. Perché hanno appoggiato le cose all'interno e stanno costruendo. Pian piano cresce la zona. Ehm, ora. Abbiamo la Stockpile. Possiamo fare gli Shack. Ehm, è un rifugio di tipo base. E contiene dieci persone. Abbiamo 46 persone, quindi me ne serviranno approssimativamente cinque. Quindi io inizio magari a piazzarne uno qui. Non me lo lascia selezionato, quindi magari cliccando con così. Infatti con lo Shift me lo piazza, me ne piazza più di uno. L'altra cosa non bellissima è che in questa cosa mi ha spostato l'albero. Ma in tanti altri casi vi demolisce proprio le risorse istantaneamente nel momento in cui le piazzate. E non fa come altri dove le abbattevano. Però magari è solo il tutorial, perché vedo che qui probabilmente dovranno andare a piazzare qualcosa qui sull'albero. Quindi dovranno abbatterlo. Comunque questo è sotto costruzione. Abbiamo un po' di assi, anche se dobbiamo lavorarci ulteriormente. E acceleriamo un po' i tempi, così almeno vediamo, perché andava veramente troppo lento. No, stanno abbattendo... No, non stanno abbattendo l'albero, lo stanno costruendo. Quindi lo stanno costruendo sull'albero. Quindi vediamo che fine fa. Io sono attento a queste finezze. No, l'albero l'hanno lasciato lì. Non gli dava fastidio. Non ha accesso a servizi di intrattenimento, salute e sicurezza. Però abbiamo dato casa a 3, 4, 5, 50 persone. Quindi molto bene, li abbiamo messi al sicuro. Ora vediamo come sta andando la ricerca. Ah, ok, hanno ricercato questo. Perfetto. Ora vorrei fargli ricercare questo. Ah, non ho abbastanza risorse. Vabbè, niente. Allora, fatemi vedere un secondo. Field camp, well production. La forgia. La forgia permette di purificare gli iron ingot, i lingotti di ferro e i copper. Lo smith invece processa i metalli in un modo rudimentale. Può produrre attrezzi base e cavo. Consumo tanto di elettricità quando attivo. Molto male. Più che altro io adesso dovrei avere anche la possibilità di avere infatti gli iron miner. Il problema è che non c'è. Le risorse non ci sono. E tra l'altro sta anche arrivando l'inverno. Altrettanto male. Allora, il field camp, vedete che mi segna tutti le cose che ci sono intorno. A me serve il ferro. Si procede, devo dire, un po' più rapidamente rispetto a quanto visto in Fartest. Decisamente, più velocemente. No, c'è qui. C'è del ferro anche qui. Perché non me lo trova? Gathering camp. Ah, perché è qui. E non è sotto la zona di influenza. Niente. Ne costruiremo un altro. Un field camp. E lo piazzeremo qui. Lo costruiamo lì. E gli piazziamo magari una stradina. Che va. Costa anche un bel po', eh. Costruire la strada. Tra l'altro fa questo terrazzamento veramente brutto da vedere. Però vabbè. E ci spiana al terreno, ma vabbè. Continuiamo a velocizzare. Tanto moriremo malissimo. Bello comunque il panorama innevato. Dipende se vi piace più il discorso medievale. Far test frontier o post apocalittico. Un po' la fallout. Insomma. Ma neanche così tanto. Perché cose strane non se ne vedono qui. Quindi. Ecco. Stanno già iniziando a lavorarci. Sì. Direi che a breve saremo pronti. È un gioco che senz'altro va approfondito ulteriormente. Perché. Allora. Costruiamo questa che possiamo. No. Non abbiamo bastanti. 850. Non le abbiamo ancora. No. In teoria sì le abbiamo. Ma va bene. Non abbiamo ancora altri tipi di lavoratori. Quindi questo è attivo. E possiamo dargli il miner. Miner. E gli diamo anche le pietre. Perché non ce ne sono. Però abbiamo il. Il. Ferro. Adesso dobbiamo smith. No. Devo fare la forgia. Crea gli iron ingot. E gli iron ingot. Se li mettessimo qui. E mi spiana il terreno. Ok. Me lo sistema. E me le fa. Me lo fa creare. Sotto costruzione. Perfetto. Abbiamo superato il primo ciclo. C'è il primo anno. Mi dice l'obiettivo che ho appena preso Steam. Infatti. Su Steam. Perché siamo all'anno 2. Ora. Costruiamo questo edificio. Può. Allora. Non vi dico. Che il gioco sia adatto a tutti. Ma neanche che sia di nicchia. Deve piacervi il genere. Sicuramente. Sono due i fattori. Che potrebbero fermare molti giocatori. E. Sono. Nell'ordine. La lingua. E il tipo di ambientazione. Seleziona risorse. Vedete qua. Si clicca sul materiale. E si sceglie quante gente far lavorare. Ovviamente. Forza lavoro 70. Lavorasse qualcuno di un po' più specializzato. Sarebbe più produttivo. Comunque abbiamo la produzione anche di ferro. Adesso. Infatti vedete che l'abbiamo raccolto. E stiamo già iniziando a produrlo. Quindi teoricamente. Noi potremmo ricercare questo. No. Non ancora. Perché me ne servono sei. Ok. Aspettiamo allora da averne sei. Mi servirà anche l'altro edificio per fare un po' di materiali. Attenzione. Questi sono degli eventi molto importanti. Che da vita appunto alla storia. Capo. Da quando noi lavoriamo i materiali. Tu puoi darci dei nuovi tool. Non possiamo lavorare senza tool. Ok. Facciamolo. Sì 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 ok. Si lamentano che non hanno tool. Perfetto. Basta chiedere. Allora andiamo a fare lo Smith. Lo Smith lo mettiamo qui. E' bello grande lo Smith. E ci chiederà anche un botto di roba. Tra l'altro dobbiamo ottenere un po' di materiali per appunto ricercare la cosa. La turbina eolica. Perché non ho ancora. Eccolo qua. Questa è l'elettricità. 200 kilowatt prodotti. 75 consumati. Quindi siamo ancora ampiamente in positivo. Dobbiamo ovviamente connettere i luoghi. E' ancora abbastanza fumosa come cosa. Perché non si capisce quando consumi elettricità. Quando non consumi. Cioè c'è l'inizio. C'è la storia. Ci spiega un po' l'inizio. Ma non si capisce. Tipo la forgia funziona alla vecchia maniera. O con l'elettricità. Boh. Sarà da vedere. Mining layer. Vediamo se c'è qualcosa qui. No. Fertility. Drilling. Wind. Il vento. Sarebbe da mettere qui. Magari. Ma ci penseremo dopo. 37 lingotti. Credo di avere abbastanza per poter ricercare questo adesso. Infatti la ricerca è cominciata. Ricordatemi poi di metterla qui. No. Qua producono. Producono anche abbastanza. Hanno 2820 risorse. Quindi ci stanno lavorando. Questa è la lumber mill che continua a produrre tantissimo. Vediamo i campi qui. Cos'hanno. Workforce. Eh no. Qua non ci sono più funghi. E quindi qua a breve avremo dei seri problemi. Quindi possiamo metterla in pausa. Demolirla. Non possiamo ancora spostarla. Quindi teoricamente dobbiamo andare a. Gathering camp. E vediamo se troviamo qualcos'altro. Perché. I funghi li sono finiti. E avrei bisogno di qualcos'altro. Quindi. Cercare magari qui. Mettiamo un gathering camp qui. E ci mettiamo con la stradina. Ok. Ci dice allora. Una questione urgente. Il nostro. I nostri instabili standard di vita. Ci stanno consumando. Dovremmo tenere d'occhio il morale delle persone. Se non vogliamo. Insomma. Che ci autodisintegriamo. Dobbiamo fare qualcosa per migliorare. Ok. Sì. E questo è molto. Alla Frostpunk. Un grosso. Previsto. Insomma. Di calcolo. Un errore di valutazione. Qual è il punto del. Aumentare. La condivisione di cibo. Se non ne abbiamo abbastanza. Non abbiamo abbastanza cibo. Per raggiungere la distrazione. Ok. Ok. Resistete oppure sistemeremo la situazione. La sistemeremo immediatamente. Perché ve le riduco immediatamente. Stiamo già andando a rotoli. Ma. Risolveremo. Abbiamo pochissimo. Adesso energia rimasta libera. Quindi. Adesso. No. Non mi ricordo più dove si regola il cibo. Ma va bene. Eh sì. Queste sono le nostre cose attive. Settlement. Life. Cavolo. Ci sono andato prima. Ma veramente sono. Popolazione. Va bene. Tanto penso l'abbia già fatto in automatico. Comunque. Se questo lo costruiamo in tempo zero. Dovremmo ottenere altro cibo. Allora abbiamo la possibilità di fare la turbina. Quindi nelle utility prendiamo la windmill e la piazziamo qui. Che è già connessa. Sulla strada tra l'altro. Però dovrebbe produrci più energia. Ne abbiamo solo 45 rimasta libera. Quindi dovremmo. Intanto. Carne e cibo. Non abbiamo niente. E mi sa che sono morti anche un paio di villici. Quindi bisogna fare molta attenzione. Accelera un po' di più il tempo. Risorse disponibili. Non c'è niente di disponibile qui. Devo ricercare qualcosa che abbia a che fare col cibo. Tipo hunting. Questo qui. Non ho abbastanza risorse. Mi servono i tool. Minchia Johnny. Quindi mamma mia che casino che sto facendo. Perché adesso dovrei produrre con lo smith che è qui. Questi. E produceteli velocemente. Grazie. Usando ferro. E che ne abbiamo tanto. E usando l'altro. Dovremmo avere abbastanza tool adesso. Perché abbiamo finito anche quelli. Quindi. Upgrade main hole. Ok. Make it happen. Ok. Abbiamo aumentato la nostra main hole. Quindi stiamo salendo sempre di più di grado. Stiamo iniziando a produrre anche i tool. Adesso dobbiamo aggiungere. Ricercare questo. Ci servono 22 tool. E stiamo correndo contro il tempo. Dobbiamo avere 22 per ricercare anche la possibilità di cercare la carne. E quindi potenziarci. Abbiamo pochi. Stanno cedendo mentalmente. E dal punto di vista del cibo. Quindi bisogna darsi assolutamente una mossa. Qui c'è un problema. Perché non hanno più funghi. Come dicevo. E se facciamo quella ricerca. Andiamo a. Non qui ovviamente. Ma nell'altro. Andiamo a raccogliere la carne. E quindi continuiamo a vivere ancora per un po'. Questa sta creando energia. Infatti non è ben più 45. Ma ne abbiamo 165. Quindi stiamo procedendo abbastanza bene. A breve avremo i 22 tools necessari per proseguire. Eh qua stiamo producendo. 46. No dai. Fortunatamente il cibo non sta scendendo così velocemente. Siamo a 20 tools. A breve facciamo i 22. 21. 22. Ok. Dai. Vai. Prendi questo. Ricercalo. Grazie. 900. Tempo stabilito di ricerca. Non lo so. È morto un membro. Sì. Infatti è morto un membro di quello lì. La prima perdita. Ok. Molto male. È morto un nostovillico. Questo era il riassunto del primo anno. Ma va bene. Vediamo quanto manca. Ok. Dai. Ci siamo quasi. A breve adesso sì dovremmo averlo ricercato. Perfetto. Quindi possiamo mettere in funzione questo. E andare a recuperare cibo e pelli. Perfetto. Quindi un po' di cibo lo porteremo a casa. Così come magari qua i funghi ricresceranno un giorno o l'altro. Ma credo di no. Potremmo cercare un fiume e andare a pescare. Che è qui. Fantastico. Quindi. Quindi. Facciamo un gathering camp qui. Eh ma non mi dà. Ok. Pesce. Pesce. Qua. Facciamo qua. E la strada. Vedete che non fa la strada obliqua. Quindi c'è un tasto forse per fargliela fare. Ma. Facciamo così. E la strada rimane immediatamente creata. Quindi quella non la devono craftare i nostri villici. Ehm. Forse salviamo la pelle adesso. Forse ce la facciamo. Qualcuno vuol parlare con te. Siamo una presentazione. Sono rappresentanti di una piccola comunità. La nostra spedizione ci conduce al tuo insediamento. Dove. Vediamo una comunità avanzata qui. Dovremmo commerciare. Trade partnership sì. Mandiamo un rappresentante. Quindi avviamo una trattativa commerciale. Dove magari prendiamo del cibo e ci salviamo le penne. Adesso qua siamo ben lontani dal centro città. Però almeno se riusciamo a pescare. È tanto di guadagnato. Anche perché la carne vedo che non arriva ancora. Le pelli sì. No. Le carni stanno arrivando adesso. Quindi dovremmo zero. Perché probabilmente l'hanno convertito in pasto. No mannaggia. Devono. Eh no. C'è il soup kitchen che va bene. Ma il soup kitchen sa cucinare anche la carne. Sono troppe cose da vedere. Vedete no. Perché questo produce solo una minestreria. Come si definisce. Quindi non possiamo. Metal working. Dovemmo farla nella... Qua. Credo. Nella taverna. Però intanto stanno... Hanno prodotto qui. Quindi io gli dico di andare a risorse abbondanti di pesce. Pescate il pesce. E quando avremo la locanda. Cioè a breve. Potremmo potenziare. È un po' più confusionario. Perché c'è meno sott'occhio dove sono le strade. Però. Allora. Era di tipo social. Taverna. E la mettiamo. La mettiamo qua vicino al... Le case. Collegate dalla corrente. Così almeno. Le risorse vengono scalate immediatamente. I pasti stanno ancora scendendo. Quindi non abbiamo risolto niente. Perché peschiamo pesce. Prendiamo carne. Ma non la sappiamo cucinare. Perché sappiamo fare solo la minestra i funghi. Quindi. E infatti si stanno lamentando ancora. Finiamo questo edificio qui. Che stanno... No. Tutti stanno portando carcasse di animali. Ma non... Ok. Allora. Questa è la taverna. Non avevo risolto niente. Niente. Consuma e basta. Consuma corrente e basta. Comunque ragazzi. Questo era New Cycle. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Se lo conoscevate. Se ne eravate incuriositi. Se l'avete scoperto con questo video. Fatemi sapere sotto nei commenti. E alla prossima. Ciao ciao.